Gruppo Italia SRL, via Andrea Costa 111, Sant'Arcangelo di Romagna Un match che si presentava da solo, quello tra Tropical Coriano e Castro Caro due squadre che ad oggi, prima del fischio di inizio, non avevano neanche la possibilità di partecipare ai play-out visti i distacchi dalla quart'ultima posizione, dunque si gioca per i tre punti ci prova in apertura di gara il Tropical con questo tiro alto da parte di Santoni poi altra possibilità per il Tropical, ancora il cross di Santoni, troppo però potente per mettere in azione il proprio compagno Castro Caro minaccioso in ripartenza con Malo che batte però troppo centralmente al 28esimo minuto spostiamoci però adesso al 36esimo della prima frazione, calcio d'angolo per il Tropical deviazione in area di rigore, quella cercata con questo colpo di testa da parte di Collini manca la precisione siamo così giunti nella ripresa in attacco, adesso c'è il Castro Caro con questo cross affilatissimo da parte di Marchetti la palla che resta viva e poi ci prova Bonavittacola, out per lui siamo allora al 14esimo minuto, l'errore della difesa del Castro Caro che spiana la strada per il vantaggio ma Collini non riesce ad inquadrare la porta davvero clamorosa l'ingenuità di una Castro Caro che adesso deve difendersi da questo calcio di punizione palla viva in area di rigore e arriva l'anticipo da parte di Mangalaggio ai danni di Marconi ma il gol è nell'aria, siamo al 26esimo della ripresa si scatena in contropiede l'ottimo Scognamiglio entrato nel corso della ripresa cerca forse il traversone, nasce la conclusione perfetta per lui e per il Tropical Coriano che si porta in vantaggio ai danni del Castro Caro si sblocca dunque la squadra riminese con questa conclusione vincente match che a questo punto il Castro Caro deve cercare di impattare con questa battuta in area di rigore quella di Colonnello si fa trovare però prontissimo Lombardi Castro Caro ancora in affanno in un'azione, in un disimpegno ancora Collini questa volta cerca l'assist e la palla che resta viva Scognamiglio alla fine viene fermato, una doppietta che sfugge nella circostanza ma come vediamo ancora in attacco il Tropical sempre Scognamiglio scatenato, ne salta due, cerca il sinistro a giro e sfiora il gol meraviglioso Calderoni salva la porta del Castro Caro siamo nei minuti finali, Castro Caro che non riesce più ad impattare a raddrizzare un match che il Tropical Coriano si aggiudica con questo gol realizzato da Scognamiglio tre punti d'oro per la squadra allenata da Thomas Zan Grazie a tutti i nostri spettatori